Se la questione paterna, il giudizio non mi toglie, la quale, con molti dubbi di virtù e di genio, mi dà speranze di grandissima consolazione. Ecco, Cornelia è nata, è nata da una madre e da un padre che si amano tantissimo. E nella sua infanzia conoscerà un periodo molto sereno, proprio a Sorrento. Quindi Cornelia e Sorrento sono legati da un conflitto indissolubile. Gli unici profondi momenti di gioia di Cornelia sono qui, a Sorrento. E cominciano proprio quando il padre, il Bernardo, decide di fare di Sorrento la sua casa. Sempre Bernardo scriverà, ad Adriano Orreggio Vescovo di Brescia, di Sorrento, questa città e soprattutto le altre del regno, diventevolissima, abbondante di tutte quelle cose che al comodo della vita si richiedono. Bella di sito, temperatissima di cielo e di insomma, di tutte quelle cose ricche che alla salute dell'alto e del corpo sono necessarie.